Bene, buonasera a tutti, ben trovati a questo nuovo incontro dell'Unione Associazione Italia Israele. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare nuovamente la professoressa Sofine Isri e il dottor Francesco Vitale e stasera l'argomento che tratteremo sarà dal fronte populare al nuovo front populist, analisi sulle due ultime elezioni in Francia. Su Finesli, come dicevo, è già stata alcuni mesi fa nostra ospite ed è professore associato di letteratura italiana contemporanea all'Università Esmarsiglia, è specialista della letteratura della Shoah in Italia, della scrittura testimoniale e in particolare di Primo Levi, Giorgio Bassani e Carlo Levi, sui quali ha scritto vari articoli e anche dei libri. È membro dell'International Conference on Jewish Italian Literature ed è anche presidente dell'Istituto Universitario di Studi Studi Ebraici che fa parte integrante dell'Università dove ha creato una formazione dalla laurea fino al dottorato in lingua e letteratura e civiltà ebraiche, mentre il nostro Francesco Vitale ha un dottorando al primo anno con una tesi in storia contemporanea presso l'Università Telematica Pegaso ed è della cultura della materia in storia moderna. Ha una vasta esperienza nell'insegnamento della lingua italiana e nella promozione della cultura italiana all'estero, oltre a una lunga esperienza di vita in Francia nelle scuole francesi e per questo lo ringraziamo per aver creato questo link con la professoressa Nisri. Quindi io vi cedo immediatamente la parola in modo che possiamo entrare immediatamente nel cuore della serata. Grazie ancora professoressa, grazie Sofì, grazie Francesco. Prego. Grazie, grazie a te Celeste ancora una volta per questa bellissima opportunità che ci hai concesso e un ringraziamento particolare alla professoressa Nisri, la quale dimostra ancora una volta di essere una nostra grande amica e noi di questo siamo assolutamente onorati. Oggi quindi si tratta di un webinar che in qualche modo è una sorta di aggiornamento del webinar precedente che abbiamo svolto nel mese di maggio il 29, dove abbiamo parlato dell'antisemitismo in Francia tra ieri ed oggi e dal momento che vi sono succeduti tutta una serie di avvenimenti politici rilevanti abbiamo pensato di fare un nuovo webinar di aggiornamento per poter quindi vedere un pochettino che cosa accade oggi in Francia e soprattutto vedere se vi sono dei cambiamenti circa lo status, la vita, diciamo così, degli ebrei oggi in Francia che come abbiamo visto la volta scorsa vivono comunque una situazione abbastanza difficile. Come già detto da Celeste, noi gradiremmo dopo ascoltare le vostre domande, leggere le vostre domande, i vostri interventi che saranno assolutamente graditi, ma prima di entrare quindi nel nocciolo, nel sugo della storia per citare Manzoni, chiederei alla professoressa rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, cara professoressa, come è oggi la situazione in Francia? C'è un miglioramento per quanto riguarda le condizioni di vita del popolo ebraico, una situazione di, come dire, senza cambiamento oppure un peggioramento? Penso che ci sia un peggioramento. Io vivo a Aix-en-Provence, una città borghese, non c'è nessun problema, però in città come Marsiglia, Lione, Parigi, la periferia, ma anche nel centro, la situazione peggiora e ci sono sempre più francesi che partono. Credo che 4.000 ebrei francesi sono partiti in Israele, mentre Israele in guerra, ma preferiscono essere con gente solidale, non ostile, più che rimanere in Francia. Quelli che partono dicono che non riconoscono più il loro paese e non possono più rimanere. Secondo lei quali potrebbero essere le cause di questo aggravarsi delle condizioni di vita del popolo ebraico in Francia, che, diciamocelo francamente, non sono mai state così ididia che è. Si dice che ogni tre generazioni c'è una grossa crisi per gli ebrei e credo che siamo arrivati a questa situazione. Ci sono aggressioni quotidiane. I ragazzi a scuola, a liceo, all'università sono ingiuriati, insultati. C'è stata la ragazza stuprata, l'avete saputo? Un'altra vera novità. 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 Perfetto, grazie. E quel che mi, come dire, mi ferisce di più è spesso ci sono iscrizioni sui palazzi di di gente ebrea che vive. Dunque è scritto qui vivono persone ebree a Parigi, per esempio, anche nei bei quartieri. Dunque diventa difficile, veramente. Per i giovani, anche io all'università ho perso tanti amici, colleghi. E poi c'è questa, ne parleremo, la France Insoumise e anche tutta la sinistra che ha messo su di noi come un bersaglio sulla schiena perché da undici mesi parla del conflitto israelo-palestinese e ci mostra quasi come dei colpevoli. E dunque hanno creato questo odio fra la popolazione. Allora, c'è l'odio dei gushisti, cioè gli intellettuali borghesi di estrema sinistra, che sono molto pieni di odio. E poi anche la popolazione musulmana che in Francia è tra 5 e 6 milioni di abitanti. Dunque è importante. 10% diciamo, se non sono mai errato. Allora, in questo senso, se lei è d'accordo professoressa, io inizierei proprio a toccare l'argomento centrale. Ecco, ho fatto la condivisione dello schermo, spero che tutti riescano a vederlo. Sì, sì, si vede, tranquillo. Perfetto, vorrei andare avanti con la diapositiva. Ok. Quindi, dicevo, qui possiamo vedere i risultati delle ultime elezioni europee. Come sapete tutti, in Francia il 9 giugno si sono tenute le elezioni europee. Un solo giorno in Francia, solamente la domenica, si è votato dalle 8 alle 18, tranne a Parigi fino alle 20. E ho voluto mostrarvi i risultati delle ultime elezioni europee del 2024, qui a destra, a fronte di quelle del 2019, quindi le penultime. Come potete notare, effettivamente, il Rassemblement National è sempre in testa per quanto riguarda i consensi, anzi è cresciuto, passando dal 23% a oltre il 30%. Non riesco a vedere molto bene i numeri, perché con questo sistema sono un po' così con la condivisione, ma non importa. Vediamo che il partito del Presidente Emmanuel Macron dal 22 è passato al 14, quindi vi è stata una riduzione di praticamente tutti i partiti, anche dei verdi, che hanno preso meno della metà, tranne un piccolo aumento per quanto riguarda la sinistra, e cioè la consensus mise, che ha avuto due punti in più di percentuale rispetto alle elezioni del 2019, è il Partito Socialista che ha raddoppiato i consensi. Allora, tenete presente un aspetto interessante, è che durante le ultime elezioni europee il tasso di partecipazione è stato del 51,49%. Nel 2019 l'assenzione è stata maggiore, c'è stata un'assenzione del 50% e nelle elezioni europee precedenti, nel 2014, l'assenzione ha toccato il 58%. Quindi non si può dire che ci sia una disaffezione dell'elettorato alle elezioni europee, diciamo. Allora, la domanda che vorrei porle, professoressa, la prima è, questo risultato, questa esplosione della Rassemblea Nazionale è stata una sorpresa per lei ed è qualcosa che in qualche modo la intimorisce, le fa paura o no e perché? Allora, lo sapevamo tutti che avrebbero avuto risultati ottimi per loro, anche perché c'è un vero problema in Francia. Io sono di sinistra, non sono razzista, non sono più di sinistra adesso, ma c'è proprio un vero problema con i musulmani. Bisogna dirlo, impongono veramente i loro modi di vivere nella nostra società e non hanno nessun rispetto né per la Francia né per la Repubblica. Dunque non era sorprendente. La Rassemblea Nazionale non è la soluzione, ma non è sorprendente che abbiano fatto un tale risultato. E poi c'è stato anche un shock per la Francia insumisa che è, forse penso adesso, più pericolosa del Rassemblea Nazionale, dell'estrema destra. Perché? Perché loro sono demagogici, sono comunitaristi, hanno scelto l'elettorato musulmano e c'è anche partito da questo partito che spiegava che Mélenchon sceglieva gli elettori a partire dalla faccia, dall'etnia. E dunque, come dire, fanno in modo che le comunità si oppongano, crea la divisione e ha creato questa violenza. E il Rassemblea Nazionale quindi in qualche modo si è riconciliato, secondo lei, con il popolo ebraico in Francia? Oppure si tratta semplicemente di una tattica, una strategia per cercare di pulirsi un po' la faccia, per così dire? Penso che sia una tattica, però hanno difeso Israele, hanno condannato quelli che condannavano Israele quando ha dovuto rispondere agli attacchi. Dunque, concretamente, anche se ipocrita, concretamente hanno sostenuto la comunità ebraica, hanno sostenuto Israele. Io mai voterei per l'estrema destra, però, perché so che è una facciata, però concretamente erano i soli a difendere con entusiasmo e con convinzione Israele. Molto paradossale. E lei si fida di questa posizione o secondo lei c'è qualcosa, diciamo, nascosto? Siamo strumentalizzati dall'estrema destra, come gli arabi, i musulmani, sono strumentalizzati dall'estrema sinistra. E perché l'estrema sinistra si è allontanata, secondo lei, dal suo elettorato di base per avvicinarsi invece a un elettorato di tipo etnico? Perché i, come dire, i ceti popolari adesso votano per l'estrema destra, che è un'estrema destra populista. Non è un'estrema destra elitista, elitaria. Non ha fatto. Dunque, lei è demagogica anche, sa parlare alla gente povera, dicendo che la colpa è quella degli immigrati, come sempre. E dunque, il solo elettorato che rimane oggi per l'estrema sinistra sono i borghesi di estrema sinistra e i musulmani, che sono sei milioni. Dunque, sono diventati un vero elettorato e si sono anche presentati come deputati, certi. Ci sono sempre più deputati dati musulmani oggi. Qualcosa che ci ricorda un po' anche quello che accade negli Stati Uniti, se posso dire così. Esatto. In che modo. Ok, allora io passerei oltre e appunto vediamo che da questi risultati c'è stata una reazione da parte del Presidente della Repubblica, il quale a Rete Unificate ha detto questo messaggio che io adesso leggo. Cari e cari francesi, oggi avete votato per le elezioni europee in Francia metropolitana, nei nostri territori d'oltremare e all'estero. L'insegnamento principale è chiaro, non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa, tra cui quello della maggioranza presidenziale. I partiti d'estrema destra che negli ultimi anni si sono opposti a molte conquiste rese possibili dalla nostra Europa, che si tratti della ripresa economica, della protezione comune delle nostre frontiere, del sostegno ai nostri agricoltori, del sostegno all'Ucraina, questi partiti avanzano ovunque nel continente. In Francia i loro rappresentanti raggiungono quasi il 40% dei voti espressi. Sì, l'estrema destra significa sia l'impoverimento dei francesi che il declassamento del nostro Paese. Non posso quindi, al termine di questa giornata, comportarmi come se nulla fosse e per questo è che, dopo aver proceduto alle consultazioni previste dell'articolo 12 della nostra Costituzione, ho deciso di restituire la scelta sul nostro futuro parlamentare tramite il voto. Dissolvo quindi questa sera l'Assemblea nazionale, tra qualche istante firmerò il decreto di convocazione delle elezioni legislative che si terranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo. Prima di passarle subito la parola professoressa, mi lasci giusto spiegare chi ci ascolta, che la Costituzione della Sanchiena Repubblica in Francia prevede da facoltà al Presidente della Repubblica a sua totale discrezione di sciogliere quindi l'Assemblea nazionale soltanto limitandosi a consultare Presidenti dell'Assemblea e del Senato senza tener conto del loro giudizio. L'unico impedimento che ha il Presidente della Repubblica è quello di non poter sciogliere l'Assemblea prima di un anno, quindi indipendentemente da quale sarà il risultato delle elezioni il Presidente non può sciogliere l'Assemblea nuovamente se non prima di un anno. E allora vado subito alla domanda, le chiedo professoressa questa scelta di Macron secondo lei è stato un atto dovuto o si tratta di una scommessa o peggio ancora di una vera e propria vendetta. Un po' le tre. Un po' tutte e tre. E tre, allora, è vero che è stata un po' la reazione di un bambino arrabbiato, indispettito anche che non è apprezzato come vorrebbe, dunque c'è questo punto negativo. Però in un certo modo io capisco Macron. I francesi sembrano volere l'estrema, sono attratti dall'estrema destra, allora ok, vediamo ciò che può offrire un governo di estrema destra. Dunque penso che lui abbia voluto mettere i francesi di fronte alle loro responsabilità. Loro hanno voluto giocare col fuoco, ebbene devono assumersi le proprie scelte. Dunque in un certo modo ho capito la sua reazione e anche forse lui ha pensato che di fronte alla paura dell'estrema destra, perché poi i francesi reagiscono ogni volta, fanno paura ma poi alla fine non votano l'estrema destra. Dunque ha pensato che di fronte alla paura dell'estrema destra i francesi avrebbero voluto di nuovo tornare verso il centro. Vorrei altresì precisare che in Francia, per quanto riguarda le elezioni dell'Assemblea nazionale, si svolgono su due turni. C'è quindi un sistema maggioritario uninominale a doppio turno, con quindi ballottaggio, ecco perché ci sono state due date. E allora quando però lei ha sentito il Presidente della Repubblica dichiarare di voler sciogliere le camere, lei si è sentita spaventata? Non tanto. Non tanto, considerando quelli che sarebbero stati poi i risultati in previsione che tutti si attendevano. Era pericoloso, sì, era pericoloso, ma noi ebrei viviamo in un incubo, dunque non era così grave per noi. Cioè qualsiasi cambiamento sarebbe stato preferibile alla situazione attuale, secondo lei? No, preferiamo Macron all'estrema destra, questo è sicuro. Certo. Ecco, e sapevamo che per le legislative i francesi non avrebbero votato in maggior anza per l'estrema destra, è stato il caso. Beh, in effetti, torno alle slide, ecco, questo è, diciamo così, il risultato, anche qui ho voluto comparare il risultato delle ultime elezioni con quelle precedenti del 2022, quindi di solamente due anni fa. Faccio presente, e la professoressa mi correggerà se dico una sciocchezza, che per ottenere la maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale è necessario avere 290 seggi, dico bene, 290 o 280. La metà più uno. Esatto, la metà più uno, e vediamo come effettivamente il partito del presidente abbia avuto un crollo considerevole, passando da 172 seggi, vediamo qui Renaissance a solamente 99, quindi a meno di 100, e la coalizione del Nouveau Front Populaire in testa, senza però riuscire ad avere una maggioranza assoluta. E anche, diciamo così, forse è interessante notare come paradossalmente la France Insoumise, per quanto il Mélenchon oggi cerchi, insomma, di rimedicarsi un po' come il leader di questa coalizione, in realtà abbia ottenuto meno seggi rispetto alle legislative precedenti. In realtà i veri vincitori forse sono i socialisti che hanno raddoppiato. Allora abbiamo visto, insomma, una compagine parlamentare molto frammentata. Lei che cosa ha pensato quando ha visto questi risultati, professore? E ha ragione perché se si guarda, dunque socialisti apparenti, 66, ma tra la gauche democratica e repubblicana ci sono dei socialisti, dunque i socialisti sono quasi più numerosi della France Insoumise oggi nel Front Populaire. Questo è importante. Allora abbiamo, non abbiamo visto, parlato del risultato all'europeo dei socialisti che hanno fatto il 14 per cento e non era così male. Si tratta di Raffaele Glucksmann, che ha avuto un buon risultato, il 14 per cento, dunque molto di più della France Insoumise, dell'estrema sinistra, perché l'estrema sinistra ha ottenuto il 9. Eppure hanno fatto una riunione tra i partiti di sinistra per il nuovo Front Populaire, dunque con i comunisti, gli ambientalisti e dunque quelli della France Insoumise. E quelli della France Insoumise hanno chiesto la maggioranza dei seggi al Parlamento e per i socialisti, dunque meno, il che aritmeticamente non era giusto, perché avevano avuto il 14 per cento, gli socialisti il 14 per cento e la France Insoumise solo il 9 per cento. E dunque i socialisti hanno accettato con molta aviltà questo deal per salvare i loro seggi, pur conoscendo la posizione antirepubblicana e antisemita della France Insoumise. E allora, dunque c'è stato uno scandalo, perché ne abbiamo parlato in maggio ci sono stati azioni e discorsi proprio antisemiti da parte della France Insoumise, allora cosa ha fatto il Partito Socialista? Ha chiesto che si mettessero d'accordo perché ci fosse una dichiarazione chiara che condannasse l'antisemitismo tra il Front Populaire e l'attacco del 7 ottobre in Israele. E dunque ci sono state negoziazioni su questo punto, il che è surreale, perché negoziazioni per condannare l'antisemitismo e l'attacco del 7 ottobre. Già era un grosso problema. E dunque per l'aspetto terroristico della strage del 7 ottobre non ci sono state decisioni chiare. Dunque questo è stato problematico e poi anche fra quelli della France Insoumise ci sono stati candidati molto problematici. Dunque ci sono stati dei candidati islamici, fanatici, e dei, allora, dei fischi S, cioè S-File, sono delle persone che sono considerate una minaccia per la sicurezza nazionale e non so com'è possibile che loro possano rappresentarsi come deputato. E ce n'è stato uno che si chiama Raffaele Arnaud, potrete guardare su internet dopo, Raffaele Arnaud a Avignone, dunque vicino a Ex, siamo andati a manifestare, che è stato dunque sostenuto dai socialisti. E quel Raffaele Arnaud è il capo della Jeanne Gard, cioè Giovane Guardia, è un gruppuscolo di estrema sinistra e di protezione della deputata Siriana Rima Hassan, che è antisemita, che ha detto che Israele era il peggiore abominio della storia. Dunque è il capo del gruppuscolo di protezione e questo gruppo ha picchiato con molta violenza un giovane ebreo dopo una manifestazione. E dunque è stato sostenuto da tutto il Front Populare e è diventato deputato. Oggi è deputato questo uomo. Mi permetterei di aggiungere che in realtà dei candidati discutibili sono stati presentati anche da parte dell'Assemblea nazionale, non che, voglio dire, per l'amor di Dio, però per completezza, tant'è vero che una persino è stata trovata, no? Una fotografia vestita con la tenuta nazista, però va detto che questi candidati sono stati allontanati. Ecco, è vero che, un po' per ridere, c'è stata una candidata dell'estrema destra che diceva «No, non sono razzista, il mio dentista è ebreo e il mio oculista è musulmano». Lei era molto orgogliosa di dimostrare che poteva frequentare. Pazzesco, è un caso. Vorrei anche far presente a chi ci ascolta come siano esplosi anche i consensi comunque per l'Assemblea nazionale, passando da 89 a 126 seggi. Mi corregga se sbaglio, professoressa, però le previsioni, i sondaggi, parlavano di una vittoria schiacciante da parte dell'Assemblea nazionale. Alcuni osavano persino dire che avrebbero ottenuto la maggioranza assoluta. Però, in realtà, poi è accaduto qualcosa al secondo turno, e cioè il famoso barrage. Potrebbe spiegarci esattamente in che cosa consiste questo barrage e di cosa si è trattato nel secondo turno? I francesi sanno che l'estrema destra non è pronta a governare e c'è Bardellà, che è il candidato molto giovane, molto stupido, che non potrebbe essere primo ministro. E poi ci sono stati molti giovani che per negligenza non avevano votato e dunque hanno votato molto e anche per questo. Anche se ci sono molti giovani che votano per l'estrema destra, dunque questo è molto, bisogna sfumare le cose. Però molta gente ha avuto paura e tra gli astensionisti c'è molta gente che è contro l'estrema destra. Dunque hanno votato di più e così, aritmeticamente, il Rassemblea Nazionale è diminuito moltissimo. È stata una bella vittoria della democrazia. E vorrei anche far presente, e lo capirà chi ci ascolta fra un attimo, il perché i voti del Partito Le Repubblican, il quale è passato da 62 a 47. Ha detto anche che una parte di questo partito, che è un partito conservatore, gollista, si è spaccato, una parte ha voluto cercare di ottenere un'alleanza con il Rassemblea Nazionale, ecco perché leggiamo a droite, droite repubblicaine, ma i repubblicani che appunto hanno voluto, anzi o meglio, non hanno assolutamente voluto sentir parlare di alleanza con il Rassemblea Nazionale, sono scesi a 47. Vedremo subito dopo il perché. Vado avanti e quindi vediamo che con il risultato che abbiamo visto quindi del 7 luglio, Jean-Luc Mélenchon ha dichiarato quanto segue e vorrei quindi riflettere assieme a lei professoressa e chi ci ascolta di quanto detto. Leggo perché penso sia interessante. Il nostro popolo ha chiaramente scartato la soluzione pergiore per sé, cioè il Rassemblea Nazionale. Questa sera il Rassemblea Nazionale è ben lontano dall'avere la maggioranza assoluta che i commentatori gli avevano predetto appena una settimana fa. È esattamente il contrario. Da ora in avanti nessun sottrifugio, accordo o combinazione sarà accettabile. Infatti le elezioni del voto sono chiare. 1. La sconfitta del Presidente della Repubblica e della sua coalizione è chiaramente confermata. Il Presidente deve piegarsi a mettere questa sconfitta senza cercare di aggirarle in alcun modo. 2. Il Primo Ministro deve andarsene. Non ha mai ricevuto la fiducia dell'Assemblea Nazionale, ha appena guidato una campagna che il suo schieramento ha perso e ha ricevuto un voto di sfiducia popolare massiccio. 3. Il Presidente ha il potere, il Presidente ha il dovere di chiamare il nuovo Front Populaire a governare. Noi siamo pronti. 4. Il nuovo Front Populaire rispetterà il mandato che gli è stato dato dei voti per i suoi candidati e la parola data sarà mantenuta. Il nuovo Front Populaire applicherà il suo programma, solo il suo programma, ma tutto il suo programma. Infatti esso è un tutt'uno di cui non si possono separare le diverse parti. Le entrate e le spese nel processo di attuazione delle misure che contiene. Già da quest'estate le misure previste in questo programma possono essere adottate per decreto, senza voto. L'abrogazione della pensione a 64 anni, blocco dei prezzi, l'aumento del salario minimo, la convocazione delle conferenze salariali per il settore professionale, il piano di gestione delle risorse idriche e le moratorie sui grandi lavori inutili. 5. L'abbiamo già detto la settimana scorsa e lo ribadiamo al Presidente della Repubblica. 6. Rifiutiamo di entrare in trattative con il suo partito per fare accordi, soprattutto dopo aver combattuto ininterrottamente per sette anni contro la sua politica di maltrattamento sociale, eccetera, eccetera. Allora, una domanda sorge spontanea, professoressa. Questa dichiarazione di Jean-Luc Mélenchon è una tattica per evitare di sporcarsi le mani, quindi avere effettivamente il potere? Cioè, si trova meglio all'opposizione, in realtà il potere lui non lo voleva, oppure si tratta veramente di, come dire, di aggressività nuda e cruda? No, io vedo questo discorso come il discorso del futuro primo ministro, perché Mélenchon ha un ego sovradimensionato e lui pensava di diventare il nuovo primo ministro. Anche se bisogna ricordare che il Front Populare rappresenta solo un terzo dei francesi, solo un terzo, non è maggioritario. Poi non è un partito, è un'unione di parecchi partiti, è come la NUPES, che hanno ideali molto diversi, hanno obiettivi molto diversi, dunque ha voluto fare un grande discorso, credeva di avere un grande potere e alla fine è stato un fallimento per il Front Populare e un grande sollievo per noi ebrei e per molti francesi. Si sperava. Non era ragionevole, il programma non era ragionevole, non era possibile. Certo, anche perché dire vogliamo il potere assoluto senza avere la maggioranza per farlo chiaramente è qualcosa che non è fattibile, soprattutto escludere a priori il compromesso denota quantomeno non una certa lungimiranza politica. Ma secondo lei, lo so che non ha la sfera di cristallo professoressa, ma secondo lei Jean-Luc Mélenchon si trova meglio all'opposizione, cioè il suo posto è all'opposizione, vuole restare lì oppure cerca in tutti i modi fino all'ultimo di vincere ma non ce la fa? No, cerca in tutti i modi di vincere. Ma non ce la fa. Penso di essere il futuro presidente, lo spera. Anche per questo cerca fra i musulmani un appoggio fra tutti e megalomani. E ragion per cui passo in realtà a quello che ha detto Marine Le Pen, che è stata molto più breve e coincisa di quanto lo sia stato Mélenchon, dicendo che vedo che la Somme Bon Nationale è il primo partito politico in Francia ed è anche il primo partito per numero di deputati. La nostra vittoria in realtà è solo rinviata. È davvero così professoressa secondo lei? Non penso che hanno ottenuto il massimo, però la situazione è così grave che sì avranno un bel risultato, ma bisogna che il centro-destra trovi soluzioni rispetto all'immigrazione. È diventato terribile, veramente. Non pensavo di dirlo un giorno, di parlare così, ma proprio c'è un problema di civiltà in Francia, veramente. Ci sono adesso quartieri in cui, per esempio io a Marsiglia, in certi quartieri non possono entrare in certi negozi perché sono una donna. Ci sono adesso quartieri che non sono più della Repubblica Francese. Dunque c'è un vero problema e spero che, perché ci sono anche i socialisti che non sono nel Front Populare, che sono rimasti autonomi e non hanno voluto collaborare con la France Insoumise, con Mélenchon. Spero che loro e poi anche una parte dei macronisti e anche quelli dei repubblicani trovino una soluzione e bisogna che la giustizia, penso, sia più dura perché c'è troppo compiacimento, compiacenza quando ci sono problemi. Per esempio, per l'antisemitismo non vediamo nulla. Ci sono aggressioni e poi continuano. Non vediamo i cambiamenti. Dunque questo diventa grave anche per gli altri francesi, anche per i cristiani che si sentono anche, come dire, minacciati. Dunque siamo veramente in una svolta, in una svolta in Francia, come non mai. Mi permetto, no, che questo sia necessario, però vorrei avvalorare quanto lei ha detto perché ci sono stato io a Exean Marsiglia e la professoressa, per chi ci ascolta, sta dicendo realmente la verità, cioè è proprio così, non si esagera. In alcuni quartieri di Marsiglia le donne non possono circolare, diciamo, senza il velo. Figuriamoci da sole, questo non è assolutamente possibile. Allora, questo... Voglio dire che io, vent'anni fa, ho creato a Exean SOS Razzismo. Ah sì. Ho lottato contro il razzismo, per gli arabi, per proteggerli. Tushpa Monpo si chiamava, a non toccare al mio amico arabo. Dunque, io sono originaria di questa corrente di sinistra, universalista, non razzista. Ma oggi, per esempio oggi, dove sono gli arabi che ci proteggono noi ebrei? Perché eravamo tanti ebrei a proteggere gli arabi quando c'era il razzismo, che è molto diminuito adesso e soprattutto sulle aggressioni razziste oggi, in Francia. Il 90% sono aggressioni antisemite, mentre siamo solo 500.000 e gli arabi 6 milioni. Dunque, proprio c'è un problema enorme. Purtroppo questa tendenza è così anche in Italia. È notizia recentissima di un aumento dei casi di antisemitismo del 300% anche qui in Italia. Avrà certamente sentito che anche a Londra si sta pensando di creare degli autobus esclusivi per gli ebrei, per proteggerli e non per segregarli, per proteggerli. Insomma, stiamo arrivando a una situazione veramente paradossale. Ma anche io, professoressa, voglio dire, anche noi abbiamo militato, noi omosessuali, con SOS Assism, proprio per... no? Poi, in realtà, come dire, questo animale ci sta mangiando un po' tutti, paradossalmente. È una seppe che ci sta, insomma, girando contro di noi. Bene, allora proseguiamo con le slide. Quindi questo per dirlo, non è la sola, diciamo, ad avere dei pentimenti. Vediamo quindi che dopo un periodo di pausa, dopo la tregua olimpica, perché ci sono stati giochi olimpici, vediamo che il nuovo governo si è finalmente creato in Francia ed è appunto Michel Barnier. Michel Barnier, nato nel 1951, è il primo ministro più anziano della storia francese, dopo il ministro più giovane che è stato Gabriel Attal fino a pochi giorni fa. Ha avuto diversi incarichi di livello europeo, tra cui quello dal 30 giugno 2016 al 31 marzo 2021, di capo negoziatore europeo per l'uscita del Regno Unito dell'Unione Europea. È stato ministro dell'Agricoltura nel 2007 sotto il governo di François Fillon e sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, membro prima dell'Assemblément pour la République, poi dell'Union pour un mouvement populaire, oggi è nei repubblicani. Però la prima domanda che le faccio è questa, al di là insomma del, come dire, del gradimento, ma è legittimo poter conferire l'incarico di formare un governo a un membro di un partito che fondamentalmente ha ottenuto pochissimi voti e che è quello meno rappresentato all'interno dell'Assemblée Nazionale? Non pensa che vi sia una discrepanza, insomma, tra la volontà popolare poi e quanto effettivamente il presidente fa in Camera Caritatis? I due estremi sono importanti, bisogna trovare una media e dunque, per esempio, se ci fosse stato il Front Populare, non sarebbe stato possibile. La destra e l'estrema destra avrebbero rifiutato tutte le proposte. Se ci fosse l'estrema destra, anche qui, il centro e l'estrema sinistra avrebbero rifiutato, mentre con Michel Barnier, che è moderato, forse si potrà fare qualcosa. E il meno peggio, secondo me il meno peggio. E poi, risposta in quanto ebrea, i repubblicani sono dei repubblicani, veramente, e hanno un atteggiamento molto onesto rispetto agli ebrei, rispetto all'antisemitismo, rispetto a Israele. Per esempio, Michel Barnier aveva il nodo che ha gli imperiostagi. Dunque, possiamo contare su questa destra moderata? Per esempio, al Parlamento Europeo, è stata eletta Arimassan, quella antisemita siriana, che dice di essere palestinese, ma non è palestinese, è siriana. E lui si chiama Bellamy, e ho votato per lui, io che sono di sinistra, ho votato per Bellamy, che è repubblicano, per gli europei. E lui ha fatto di tutto, perché lei non fosse, non diventasse la responsabile al Parlamento Europeo dei diritti dell'uomo. E dunque, lui è riuscito a fare sì che lei non fosse eletta, come la responsabile per tutto il Parlamento Europeo dei diritti dell'uomo. E cosa ha fatto lei? Ha detto, ah sì, tu vedi che adesso non dormirai bene, perché mi vendicherò, e non sarai più tranquillo. E dunque lui ha sporso, sporso una causa, si dice. Sposto. Contro di lei. Perché, e dunque... Asporto denuncia. Asporto denuncia, grazie. Asporto denuncia, e dunque loro sono onesti. È vero che quelli che rimangono, che rimangono, non quelli che sono partiti con l'estrema destra, ma sono persone molto oneste, repubblicane, che hanno una volontà di cambiare le cose, di far funzionare la giustizia. E io sono molto, in quanto ex sinistra, sono molto contenta che sia Michel Barnier. Però c'è un però, e cioè, il problema è, e qui leggiamo, Le Figaro, che insomma non si può certamente tacciare di essere un giornale di sinistra, che scrive, il primo ministro è visto come competente, aperto al dialogo e simpatico, secondo un sondaggio, bla bla bla, eppure, tre quarti delle persone intervistate, pensano che sarà mandato via, tramite una mozione di censura. Pensano, non è che vogliono, pensano, perché sono pessimisti i francesi, pensano, ma non è stato accettato senza molto scandalo, a parte la France Insoumise, che ha gridato lo scandalo, ma i francesi non erano scandalizzati, che fosse Michel Barnier. Ma in realtà c'è questa possibilità concreta, che questo nuovo primo ministro, noi in Italia diciamo, arrivi a mangiare il panettone, cioè nel senso che arrivi a Natale, potremmo dirlo, arrivi a mangiare la bûche de Noël, fondamentalmente. Questo è davvero, come dire, imprevisto, c'è davvero la possibilità, che il nuovo primo ministro cada, nei prossimi mesi o no, secondo lei? Sì, è possibile, ma un primo ministro del Front Populaire avrebbe finito molto prima, uno dell'estrema destra molto prima, dunque, rispetto, il meno peggio. Capiscono forse adesso le persone che ci ascoltano, perché prima io ho detto che comunque questa compagine parlamentare resterà invariabile per un anno. Quindi, insomma, siamo partiti per vedere i ministri, chiedo professoressa, secondo lei siamo partiti per vedere i primi ministri cadere come birilli o no? Da qui a un anno intendo, e poi magari il presidente potrebbe indire nuove elezioni. Lei cosa ne pensa? Questo non lo saprei dirlo. Come si sente però lei così? Penso che fra un anno ci sarà un cambiamento, un nuovo cambiamento, ma per un anno penso che riusciranno a avere una piccola maggioranza e forse potranno... Forse si potrebbe pensare anche i socialisti di buon senso, che potrebbero eventualmente fare una grande coalizione repubblicana. Potrebbe essere... Secondo lei si staccheranno i socialisti da questa coalizione del Nouveau Front Populaire o no? Allora, il problema è che il capo si chiama Olivier Faure, che è uno scandalo. Lui, per esempio, allora parlavamo dei giochi olimpici. C'è stato un deputato, Thomas Porte, che ha invitato la popolazione a fare in modo che la squadra israeliana non possa partecipare e ha anche spinto la gente a chiedere, a organizzare manifestazioni e violenze. Olivier Faure non ha denunciato questo appello alla rivolta contro la squadra israeliana. Un'altra cosa, quando è morto Ismael Agnè, il capo del Hamas, molti della Francia insumis hanno presentato le loro condolienze dicendo che lui era un grande partigiano e i socialisti non hanno detto nulla. Dunque c'è un grosso problema fra questi socialisti. Ce ne sono altri, Gage, Caseneuve, che quasi diventava il primo ministro, peccato che non sia stato scelto. Spero che questi che non hanno voluto partecipare al Front Populare spero che troveranno una soluzione con il centro-destra vedremo. A tal proposito di scontri e di manifestazioni, c'è stato recentemente qualcosa alla festa dell'umanità. La prima domanda che vorrei farle, se potrebbe gentilmente spiegare a chi ci ascolta, che cos'è la fede dell'umanità. Allora, si dice la fede dell'uma, è una festa che i comunisti organizzano ogni anno, ma avete l'equivalente in Italia? Non saprei. Come si chiama? La festa dell'unità. La festa dell'unità. Tutti vanno, non è solo dell'estrema sinistra, è popolare, si mangia bene, c'è la festa, ma oggi no. Già, allora, bisogna ricordare che quando Barnier è stato scelto da Macron, ci sono state manifestazioni di protesta dall'estrema sinistra e come sono state organizzate bandiere palestinesi, ma dove il rapporto bandiere palestinesi è un appello all'intifada a Parigi e a Marsiglia. Qual è il rapporto con Barnier? Non lo so. Dunque, c'è veramente un problema. e dunque c'è un legame con la FED dell'UMA. La FED dell'UMA quest'anno è dedicata alla Palestina e hanno organizzato una conferenza su come lottare contro l'antisemitismo. Come lottare contro l'antisemitismo, però hanno detto ma senza la strumentalizzazione dei sionisti e dei colonizzatori e chi ha parlato in questa conferenza si chiama Uria Butelja e Uria Butelja è una grande antisemita. Ha scritto un libro che si chiama I bianchi, gli ebrei e noi e considera gli ebrei nemici numero uno, responsabili di tutte le ingiustizie in Francia e nel mondo, sono troppo ricchi, potenti, bianchi, colonizzatori e anche omofobica, pensa che l'omosessualità è stata inventata dagli occidentali per indebolire l'uomo arabo. Dunque era lei era lei a spiegare come lottare contro l'antisemitismo e come se avessimo chiesto ai talibani di parlare dell'emancipazione delle donne e tutto era così. Anche gli ambientalisti alla fede dell'umina proponevano una Palestina durevole. Dunque tutto era incentrato sulla Palestina e dunque il mio collettivo è andato, il mio collettivo contro l'antisemitismo, erano una ventina, sono andati a protestare e c'è stato per fortuna il servizio d'ordine del comunista che li ha protetti se no sarebbero stati picchiati. Prima di far vedere insomma il video che lei ci ha condiviso e farlo vedere a chi ci ascolta avrei una domanda da farle. Secondo lei perché la sinistra o una parte della sinistra si concentra esclusivamente su questa tematica? Certo per questioni di consenso lo abbiamo detto ma secondo lei è perché manca una base programmatica cioè almeno questa è la mia idea forse vorrei condividerla a lei e sapere la sua opinione ma è perché manca una base programmatica e quindi si cerca di non ci sono più i proletari non ci sono più i proletari e i nuovi oppressi i nuovi dannati della terra sono gli arabi e qualsiasi qualsiasi cosa che facciano sono sempre delle vittime che bisogna proteggere sono dalla parte e il walkismo sono dalla parte delle vittime da proteggere e dunque hanno scelto questa questa causa e certi credono di essere molto generosi ma difendono il Hamas spesso e la violenza dunque è un grosso problema difatti sto mostrando qualche foto che lei mi ha inviato per quanto riguarda i diversi stand appunto che si trovavano in questa festa dell'Umao dell'Humanité il Tanto Palestine vuol dire Statua di Palestina infatti qui io ho un video molto interessante che però è in lingua francese cerchiamo di tradurlo un po' in simultanea dura tre minuti ed è l'ultimo punto dopodiché lasciamo la parola agli ascoltatori se vorranno farci qualche domanda per mostrarvi quello che è accaduto alle persone che erano lì durante questa festa e prima prima si vede a sinistra dunque contro la normalizzazione delle relazioni con l'entitazionista genocidaria cioè rifiutano ogni scambio con Israele anche al livello delle università al livello culturale e dunque hanno creato questo il video è sotto di tuo lato ma proveremo a tradurre pezzettino per pezzettino l'ultimo armato salah amuri terrorista di FPLP Io l'accompagno fino a una conferenza al stand di la FR Insoumise. In sua intervenzione, il rejette vigorosamente la solution a due Etats sotto l'oeil approbanteur, voire admiratif, di Rima Hassan. La solution a due Etats n'existe più. La comunità internationale può continuare a dire ciò che vuole su la solution. A due Etats n'existe più. A la scuola di questa conferenza, interroge la 3e persona che è presente su scena a loro cotto. Il s'agit d'Anne Tuaillon, presidente di France-Palestine-Solidaritè. In una quata d'humanità, io lui chiedo l'avis del Hamas. Noi abbiamo nulla a dire sulle modalità che il pape palestiniano choisi per se rivolter e per resistere contro l'occupazione. Est-ce que le modalità del 7 octobre era conforme, secondo voi? Il appartiene a la juridiction internationale di determinar se si erano conforme o non. Humanità... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Omar Alsoumi du collectif Urgences Palestine tenait aussi une conférence en toute tranquillité. Je vous rafraîchis la mémoire, il s'agit d'un homme qui appelle à l'intifada partout en France et qui jetait des bouteilles sur les militantes juives de Nous Vivrons pendant la journée du droit des femmes. Je vais être honnête, je me sentais pas super bien donc je décide de me changer les idées en allant au stand des livres. Mauvaise idée. J'y découvre des ouvrages comme Judaïsme contre Sionisme, L'État d'Israël contre les Juifs ou encore un livre de Salah Amouri. Encore lui. Juste à côté, des stickers qui remplacent Israël par la Palestine. Et si vous venez en famille, ne vous inquiétez pas, vous pourrez proposer à vos enfants de faire du coloriage pour supprimer Israël. Voilà, je m'arrête là. J'étais venu à la fête de l'humanité mais j'y ai vu une défaite de l'humanité. Non so se qui a ascoltato avrà capito, insomma, ma grosso modo ci sono diversi punti salienti. Georges Abdallah, questo estremista che appunto sta scontando la pena a Bergastolo per aver ucciso un diplomato diplomatico, scusate, americano e israeliano. Poi abbiamo un richiamo costante all'intifada. Vediamo che addirittura i militanti affermano di non poter giudicare il sistema che utilizzano i palestinesi per la rivolta, quindi non si può diciamo così condannare quello che è accaduto il 7 ottobre. Ma insomma, professoressa, ma che cacchio sta succedendo? E poi non abbiamo parlato dell'attentato della sinagoga della Grande Mote. Dopo tutti questi discorsi dell'estrema sinistra, alla fine cosa succede? Che dei giovani dell'immigrazione si aggrediscano una sinagoga e ce n'è stato uno di un francese di origine algerina che ha utilizzato la stessa strategia dei terroristi nei kibbutz il 7 ottobre, cioè ha messo la benzina intorno alla sinagoga poi l'ha incendiata come hanno fatto i terroristi nei kibbutz nelle case così la gente esce e lui aveva un'ascure un'ascia e una pistola e voleva ammazzarli. Per fortuna ha sbagliato l'orario dello Shabbat ha preso l'orario d'inverno c'erano comunque cinque persone fra cui il rabbino e c'è stato un poliziotto che è venuto che è stato ferito perché c'è stata un'esplosione parecchie esplosioni ecco dove ne siamo e il responsabile è la Francia lo dico chiaramente dopo tutti questi discorsi undici mesi di discorsi contro Israele e contro gli ebrei finiscono così che bruciano le sinagoge e abbiamo anche mi permette anche di far notare come si incentivi all'odio già ai più piccoli abbiamo visto questo aspetto secondo me non trascurabile come nelle librerie degli stand presenti nella festa dell'umanità se ci fosse la possibilità di colorare delle cartine dove appunto vi era lo stato della Palestina eliminando completamente appunto lo stato di Israele quindi in realtà vediamo che forse i primi a non credere nella soluzione di due popoli di due stati sono forse i militanti pro pal o sbaglio professoressa esattamente ma dal fiume al mare adesso abbiamo capito ma bisogna capire che i palestinesi non vogliono due stati vogliono la Palestina dal fiume al mare bene io abbiamo fatto un'ora precisa sono le 22 io ringrazio davvero di cuore la professoressa Nesri per aver preso il tempo di condividere assieme a noi quelle che sono le sue esperienze dirette e anche di donna militante per proteggere la comunità ebraica noi e la Francia anche la Francia naturalmente certo la Repubblica noi si fa un po' le cassandra della situazione proprio perché si vuol mostrare cosa accade proprio qui vicino a noi a pochi passi da noi e non bisogna quindi assolutamente abbassare abbassare la guardia io lascio la parola a Celeste tranne se la professoressa vuole aggiungere qualcosa sì da qualche anno riceviamo all'università dei giovani italiani magrebini ce ne sono sempre più forse perché non costa molto l'università in Francia e sono molto cortesi molto gentili e c'è una non so perché c'è una grande differenza tra questi giovani italiani di origine magrebina e quelli francesi ecco ho notato questa differenza enorme bene allora io innanzitutto vorrei ringraziare i nostri ospiti Francesco Vitale e la professoressa per l'approfondimento e per la vastità delle informazioni che ci hanno appena fornito e l'associazione tiene particolarmente a proporre questi incontri e in particolare quelli con la professoressa Sofì Nusri perché parlare oggi della Francia ci consente anche in un certo senso di proiettarci in una dimensione europea ma anche farci vedere quale in prospettiva potrebbe essere anche il futuro del nostro paese il futuro dell'Italia ci hanno dato delle informazioni anche molto importanti in termini numerici in Francia ricordo ci sono 500.000 ebrei a fronte di 6 milioni di arabi per cui musulmani per cui voglio dire la Francia ha un laboratorio ormai già avanzato rispetto a tematiche che oggi noi ci troviamo a affrontare con l'antisemitismo con l'antisionismo e quindi ecco io intanto li ringrazio nuovamente proprio per l'approfondimento per lo spaccato che la professoressa ci ha dato anche con i suoi esempi della società francese in ultimo anche con questo video che magari potremmo anche commentare insieme dopo e anche direi per le informazioni di tipo e di carattere istituzionale che Francesco ci ha voluto diciamo proporre per comprendere meglio anche così le dinamiche a livello parlamentare a livello politico quindi io intanto vi saluto vi ringrazio concludiamo qui la registrazione del nostro incontro e poi proseguiamo con le domande grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti